Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Uomini Disponibili, spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Sarebbe bello trovare nella società persone disponibili, che abbiano il coraggio di mettersi in gioco, che sono colme di pazienza, che sono pronti ad affrontare nuove sfide per aumentare la bellezza della società, farla crescere nella sua bellezza espositiva, nella sua dolcezza, nella sua bellezza vigorosa che solo una società unita può offrire. E abbiamo bisogno di uomini disponibili a creare un progetto forte. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Uomini Disponibili. Sarebbe bello trovare Uomini Disponibili alla società, per così far vivere e vedere che nel mondo esiste ancora la pietà. Uomini colmi di pazienza, per affrontare nuove sfide, degne di vera perseveranza e ricche di ampia fede. Uomini disponibili a creare un insieme di proposte lavorative, per poter così vivere intense opere e sante riuscite per degna passione. Uomini sacri immacolati, illuminati dalla luce celestiale, dei santi uomini ecclesiali che tanta carità hanno saputo infondere. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti.